Troviamo la Move in Picco Tella di Ramalla per festeggiare l'anniversario della Repubblica Italiana insieme alla delegazione dei ministri palestinesi, alla cooperazione italiana, al console italiano e a tanti altri amici che oggi sono qui riuniti per ricordare questa importante festa. Siamo qui a Ramalla per le celebrazioni della festa nazionale italiana alla presenza del primo ministro Rami Andalla con un folto gruppo di ministri palestinesi con rappresentanti del settore privato, della società civile, delle università. È stata un'occasione per fare il punto delle relazioni fra Italia e Palestina che sono molto intense, si sono arricchite della visita del Presidente Abbas a Roma a metà maggio. Alla fine di giugno faremo una riunione fra i due governi a Betlemme. Poi ci sarà un'occasione importante a Milano con la visita del Presidente Abbas a metà settembre per la giornata nazionale della Palestina. L'Italia e Palestina hanno una fortissima relazione fatta di grandi iniziative di cooperazione nel settore del gender, nel settore della salute e dello sviluppo economico con ben quattro linee di credito che sono state attivate a favore dell'imprenditoria palestinese a tutti i livelli, soprattutto mi piace sottolineare dei gruppi vulnerabili come le donne, come gli studenti appena laureati e come i piccoli contadini di Gaza per i quali stiamo lavorando per la ripresa delle esportazioni da Gaza verso l'Italia. Il clima è molto cordiale, la partecipazione è elevata sia di italiani che operano qui sia di palestinesi che cooperano con gli italiani. La presenza italiana ha un impatto positivo e forte nella Palestina. Il primo ministro ha sottolineato la collaborazione dell'Italia in molti vitali settori della vita palestinese come la sanità, le infrastrutture, la local governance e ovviamente i contributi all'Unorva e al settore economico, economic development. Per gli italiani all'estero feste come questa hanno un sapore ancora più gustoso di riscoperta della propria identità e di un ruolo specifico che l'Italia svolge nel mondo. È un grande piacere trovarsi qui nel giorno in cui in Italia, nel mio paese, si festeggia la festa del paese anche se è la festa della Repubblica, di una delle nostre istituzioni. Sono da tre anni qui in Palestina, a Ramallah. Devo dire che ho avuto modo di constatare quanto sia forte il legame tra il popolo palestinese e il popolo italiano né testimonianza il fatto che siamo riusciti a fare insieme una cosa importante la Camera arbitrale internazionale che ha sede qui in Palestina che aiuterà, io spero, a risolvere in modo pacifico per ora i conflitti economico-commerciali. Chissà se un giorno ci aiuterà anche a risolvere qualche problema un pochino più grande. Quindi oggi è una bella giornata, una grande giornata, una festa dell'amicizia tra Palestina e Italia e ovviamente una grande festa del mio paese. Oggi è una grande festa per l'Italia perché ricordiamo la celebrazione della Repubblica, della nascita della Repubblica italiana, però è una festa anche molto sentita qui a Ramallah, vero? Infatti grazie all'Italia che manda questo messaggio di democrazia ma anche della nascita della Repubblica italiana che in tutti questi anni che l'Italia ha lavorato per la Palestina, per la Terra Santa veramente viene sentita anche tra i palastinesi e le vedete la maggior parte dei palastinesi che festeggiano questa giornata per l'avvicinanza tra i popoli, tra questi paesi che hanno anche delle cose in comune praticamente. Noi speriamo per l'Italia un futuro migliore e speriamo che viva la Repubblica, diciamo. Sono contento di incontrare i consuli, i cittadini italiani, anche dei colleghi che sono stati in Italia, che sono laureati in Italia. Mi fa molto piacere incontrare tutti proprio. Io mi chiamo Jamal, sono un medico laureato alla Sabienza, specializzato al Gemelli, alla Cattolica, a Roma. Sono un radiologo che è un centro radiologo a Nablus. Oggi vengo per questa festa perché mi fa piacere veramente partecipare con voi, essere con voi. La festa degli italiani è festa per noi tutti. Oltre al primo ministro è presente il ministro del turismo palestinese, un altro settore di cooperazione a Sai Vivo. Siamo tanto felici di essere qui oggi per celebrare la festa della Repubblica italiana. Ogni anno siamo sicuri di essere in molti a partecipare all'incontro, quale testimonianza di apprezzamento al governo italiano e ai nostri colleghi italiani. Abbiamo relazioni molto buone con l'Italia e anch'io, come ministro del turismo, sin dal mio primo giorno di incarico ho iniziato a cooperare con l'Italia in molteplici ambiti, sia nel settore del turismo che nel settore delle antichità e dei siti storico-archeologici. Abbiamo ottime relazioni con l'Italia e siamo parte della commissione intergovernativa palestinese-italiana. Abbiamo qui con noi il rappresentante delle Misericordie d'Italia. E voi che ruolo avete oggi in questa festa? Speriamo di rappresentare il volontariato italiano in questa terra assai particolare. Per cui insomma noi siamo presenti da un anno, abbiamo aperto una sede delle Misericordie a Betlemme e nel 2015 vorremmo partire con tutta una serie di servizi legati ai trasporti sanitari per bimbi e anziani e possibilmente anche con un servizio d'emergenza. È un impegno significativo che in questa festa della Repubblica, come unica associazione che rappresenta il volontariato italiano, testimoniamo e vogliamo accompagnare anche con tutta una serie di prodotti tipici che abbiamo portato proprio dalla Toscana. Grazie per la visione!